stasera live da ansio live dalle grotte di nerone facciamo un volo con il drone non mi si vede adesso forse si mi si vede dicevo si fa un volo con il il drone e vediamo ansio di notte anzi notte per la prima volta testiamo fa una certa giannetta è buio non è che c'ho un altro faro mi sono messo sotto la luce per cercare di dare più luminosità possibile a questo video dicevo live da ansio daremo voce a questa notte questa notte frizzantina si vede forse si eccola lì la luna questo puntino qui mezza luna piena mezza luna piena non si può sentire però in mezza luna accesa ecco dai non mi viene il termine però insomma famosa capì e niente lascio che parlino le immagini di di ansio sperando che come primo video insomma vi possa piacere a me sinceramente non è dispiaciuto buona visione ragazzi alla prossima ciao Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.